Don Antonio, oltre a essere responsabile dell'ufficio di pastorale missionaria della Diocesi, lei è stato anche curato quando era in Zambia in questo ospedale. Ha visto negli anni cambiare l'ospedale, diventare migliore? Beh, l'ospedale è cambiato. Basta pensare che è partito come un piccolo ambulatorio nel 62 e adesso non spera tutti gli effetti. Qualche posso dire è che diverse volte sono stato curato per la malaria e quindi se sono sopravvissuto vuol dire che mi hanno curato bene. Ma questo per dire che sono problemi molto seri nell'ospedale, oltre alla malaria, tubercolosi e soprattutto l'AIDS, dove si trova l'ospedale a confine con lo Zimbabwe e quindi c'è un movimento proprio di trasporto e tutto e quindi l'AIDS si aggira dai 16-20% di persone che purtroppo colpite l'AIDS e tantissime di loro si avvalgono nella presenza di questo ospedale. Quindi è un servizio molto grande per il territorio. Oltretutto il primo dicembre è anche la giornata mondiale. Di AIDS si parla sempre meno, invece continua a essere drammaticamente presente. Sì, è un dramma anche da noi, anche se non ne parlano, anche in Italia, nel mondo europeo, ma ancora di più nel mondo africano. Ricordo qualche anno fa come ufficio missionario abbiamo fatto anche uno spot mother to child, proprio per aiutare le mamme nei villaggi e soprattutto a una prevenzione prima del parto per evitare che il bambino nascesse già ammalato e si era positivo. Quindi è tutto un lavoro che da anni portiamo avanti per combattere l'AIDS e per far conoscere ai genitori questo dramma importante che colpisce tanti paesi africani.